...di Jihad, stavolta quella di casa nostra, perché ci sono 5 indagati, 5 cittadini stranieri residenti in Veneto, sono accusati di terrorismo e sono stati individuati da ROS, tra loro ci sarebbero reclutatori stranieri con l'obiettivo di arrollare e inviare nei teatri di guerra aspiranti jihadisti. ROS e DIGOS tengono ancora sotto stretto controllo una trentina di persone, ne parliamo oggi in studio con Daniele Scalea, che è il direttore generale dell'ISAC, che è l'Istituto di Alti Studi in Geopolitica e Scienze Ausiliari. Allora, cominciamo a chiedere se questa operazione arriva, dopo chiaramente la letta terrorismo lanciato dal Ministero degli Interni, sia intensificato il controllo dopo questi allarmi o in realtà è sempre alto? E' sempre alto, perché in verità non stiamo parlando della minaccia nuova, è comunque una minaccia che almeno dal minimo del 2001 è al centro dell'attenzione. Credo comunque sia importante anche metterla nella sua giusta dimensione, perché secondo le stime che vengono fatte avremo tra i 500 e i 3000 combattenti che dall'Europa sono andati in Siria, una cifra importante, ma che si è messa a confronto comunque con una popolazione di musulmani dell'Unione Europea che supera i 20 milioni risulta molto più leggera. C'è anche l'impatto che queste moschee che possono diventare dei centri di reclutamento per terroristi e guerrieri, questo è vero, ma d'altro caso sono anche diventati centri di reclutamento per i servizi segreti occidentali. Già in diverse occasioni degli infiltrati hanno permesso di sventare delle operazioni terroristiche. Purtroppo questo non funziona con quelli che la comunità di intelligence chiama i ditti solitari, cioè coloro che agiscono da soli, senza coordinamento, senza essere attivati da qualcuno. Quanti potrebbero essere questi che dato possiamo stimolare? Numericamente è difficile, però secondo le statistiche nel complesso degli attentati terroristici che avvengono nel mondo siamo sotto il 2% a opera di queste persone. Sono generalmente però delle ragioni meno efficaci, però molto più difficili da prevenire. Una personalità importante di Al Qaeda, che è stato Abu al-Furi, ha scritto diversi testi riguardanti anche le strategie tattiche per il GIAD, ha autorizzato proprio per l'Europa e gli Stati Uniti quella che lui ha chiamato una resistenza senza capi. Quindi queste operazioni fatte o da cellule molto piccole o addirittura da singoli in modo da non poter essere bloccate dai servizi segreti. Torniamo in Veneto. Che livello di pericolosità aveva questa cellula? serviva solo per reclutare i combattenti da inviare in Siria oppure era pericolosa anche in Italia, sul territorio? Sicuramente almeno nel breve e medio periodo serviva a reclutare i combattenti per la Siria. Questo è evidente. Però sono evidenti anche i problemi, cioè il problema del ritorno di queste persone che non deve essere necessariamente il ritorno al loro paese di origine, ma dopo che termina un episodio come può essere quello della Siria e ce l'ha insegnato l'Afghanistan, ce l'ha insegnato i 10 anni di guerriglia in Afghanistan contro l'Unione Sovietica, questi combattenti stranieri si muovono e vanno a creare e a destabilizzare altri paesi. Per cui l'Afghanistan è seguita la rivolta in Cecenia, è seguita quella in Bosnia, è seguita nuovamente poi in Afghanistan e in Iraq in tempi più recenti in Libia e in Siria. Quindi si crea questa catena che ovviamente dopo costringe anche i nostri paesi a investire risorse, anche magari a sacrificare vite umane per riuscire a porli fronte. C'è un altro elemento. Consideriamo che è vero che i volontari europei non raggiungono le 3.000 unità molto probabilmente, però i volontari che provengono da altri paesi musulmani sono molto superiori. Alcuni di questi vengono da paesi come l'Afghanistan, come la Cecenia in cui si possono trovare dei letterali. Qual è il vero valore aggiunto che quindi possono portare a questi volontari che provengono dall'Europa? Il fatto di avere un passaporto europeo, il fatto di conoscere molto bene l'Europa e quindi di poter essere utilizzati in seguito per creare delle cellule all'interno dell'Europa. Ci sono già stati degli allarmi in questo senso in Gran Bretagna e potrebbe succedere, visto anche il maggiore coinvolgimento che stanno avendo i paesi europei, tra cui il nostro, anche in Italia e in altri paesi dell'Unione Europea. Una domanda tecnica. Queste persone vengono addestrate in Italia o semplicemente reclutate e poi vanno a fare apprendistato all'estero? Beh, vengono reclutate essenzialmente perché comunque c'è una… impiantare un campo di addestramento richiede ovviamente degli spazi, richiede un controllo del territorio… Non c'è mai stato un caso in Italia di un campo di addestramento? No. I campi di addestramento tradizionalmente in Afghanistan e in Pakistan e quelle aree del Pakistan che hanno sostanzialmente escluso dal controllo dell'esercito, è l'Afghanistan perché c'era il favore dell'allora governo e in alcuni paesi dell'Africa, ovviamente dove lo stato è più debole o dove è compiacente. Oggi si stanno concentrando in Siria perché lì si è creato un forte controllo di una grossa porzione del territorio in cui si possono facilmente installare le vere e proprie basi militari. Anche il segretario di Stato degli USA, John Kerry, ha proprio definito la Siria il più grande magnete per i terroristi nei nostri giorni. Quanto è credibile poi un ritorno? Perché alcuni vanno a combattere, come abbiamo detto, nei teatri appunto di guerra e altri invece ritornano in Italia. Quanto è credibile la teoria, comparsa pochi giorni fa sui giornali, che volevano un ritorno attraverso i barconi dei migranti che arrivano in Italia? Attraverso i barconi... È un rischio grosso comunque perdere un soldato, tra virgolette, formato e pronto all'azione. È una possibilità anche vera che ci sono altri metodi per entrare in Italia comunque. Ma sono più tracciabili proprio? Sì, sono tracciabili però capisce che per una grossa organizzazione internazionale realizzare un passo a passo falso, comunque riuscire a introdurre una persona in un paese non risulta così difficile. È vero che poi il pericolo di coloro che vengono nei barconi e quindi magari sfuggono anche le maglie di identificazione è grosso. L'identificazione quindi è obbligatoria? Non è che si può chiedere di non essere identificati? L'identificazione è obbligatoria anche perché in base ai regolamenti di Lugino che l'Italia ha sottoscritto con gli altri paesi dell'Unione Europea, più alcuni altri paesi europei come la Svizzera, è previsto che la gestione della richiesta di asilo e la sua eventuale concessione venga fatta dal paese che per prima o poi emigrava. Quindi questa identificazione dovrebbe essere fatta nel momento in cui entrano in territorio dell'Unione Europea. A volte si è detto che l'inclusione è l'arma vincente contro questo tipo di pericoli, diciamo, di terroristi che nascono in casa nostra. Invece in questo caso cosa dovrebbe fare il governo contro queste cinque persone colte in Instagram? Al di là di queste cinque persone io credo che l'inclusione sia veramente la chiave. Nel senso che è facile capire che l'emergenzione che viene fatta su una parte della popolazione, anche in questo caso gli immigrati, crea ovviamente un senso di rivalza e di risentimento, sono stati fatti anche negli studi sociologici. Ne abbiamo parlato anche noi qui da una mattina a lungo. Grazie a Daniele Escarea, grazie per essere stato con noi. e adesso c'è... Grazie.